nuovo codice della strada il pugno duro di salvini 2600 euro di multa e patente sospesa per tre mesi a chi chatta alla guida prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati anche un like per noi è molto importante seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali troverete tutti i link in descrizione grazie mille il nuovo codice della strada è finalmente giunto con l'obiettivo di ridurre il tragico tributo che le strade italiane reclamano ogni anno con oltre 200 vittime dall'inizio dell'anno il ministro dell'interno matteo salvini ha annunciato una serie di misure rigorose per fermare le stragi del sabato sera questo nuovo pacchetto di leggi comprende un focus particolare su sanzioni più severe e una politica di tolleranza zero una delle principali modifiche riguarda l'uso del cellulare alla guida le sanzioni per chi telefona o invia messaggi mentre è al volante sono state significativamente aumentate con molte che ora vanno da 422 a 1697 euro per la prima violazione accompagnate da una sospensione della patente da 15 giorni a due mesi per i recidivi le conseguenze sono ancora più gravi con molte che vanno da 644 a 2.588 euro e una decurtazione di 8 punti alla prima violazione e 10 punti alla seconda l'eccesso di velocità è stato messo sotto la lente di ingrandimento con sanzioni che possono arrivare fino a 1.084 euro se si commettono violazioni dei limiti di velocità all'interno del centro abitato almeno due volte in un anno inoltre la patente verrà sospesa per chi viene sorpreso a guidare contro mano o con il semaforo rosso l'uso degli autovelox sarà più strettamente regolamentato con specifiche tecniche dettagliate sugli apparecchi e il loro posizionamento per quanto riguarda l'alcol e gli stupefacenti alla guida chi viene trovato in stato di ebbrezza o sospettato di aver assunto droghe rischia la sospensione della patente fino a tre anni inoltre i recidivi dovranno obbligatoriamente installare un dispositivo chiamato alcol lo che impedisce all'auto di accendersi se il tasso alcolemico è superiore allo zero le sanzioni per la sosta in posti riservati ai disabili o ai bus sono state raddoppiate con molte che variano da 165 a 660 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 330 a 900 90 euro per le auto i furgoni e gli altri veicoli i neopatentati dovranno accumulare tre anni di esperienza di guida prima di poter guidare auto di grossa cilindrata inoltre i minori che vengono sorpresi alla guida senza patente ubriachi o drogati dovranno aspettare fino a 24 anni di età per ottenere la licenza di guida per i monopattini è ora obbligatorio indossare il casco avere una targa e un'assicurazione la circolazione contro mano e sui marciapiedi è vietata e i veicoli in sharing saranno bloccati fuori dalle aree autorizzate le multe per chi circola senza contrassegno o assicurazione vanno da 100 a 400 euro inoltre chiunque cerchi di modificare illegalmente i motori dei monopattini o contraffare i dati del proprietario sarà soggetto a sanzioni infine è prevista la possibilità di utilizzare accertamenti da remoto per contestare violazioni come l'obbligo di dare precedenza a pedoni e ciclisti e il divieto di fermata e sosta riservata questo nuovo codice della strada è stato approvato dal consiglio dei ministri e ora attende il passaggio parlamentare a ottobre se approvato rappresenterà un passo importante verso una maggiore sicurezza stradale in italia la notizia per il momento è solo per il momento termina qui se non lo avete ancora fatto questo è il momento giusto per iscriversi al canale attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video seguiteci anche sugli altri canali sui social troverete tutti i link in descrizione lasciate anche un like e un commento ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale grazie mille del sostegno a questo punto io vi auguro una splendida giornata l'appuntamento è sempre per la prossima notizia grazie a tutti